Eccoci qui, siamo in pieno centro, siamo al Golden Egg per una bella notizia. Da lunedì, Fulvione lo vedete, là dietro c'è anche Federico che adesso inquadriamo, suo figlio, lo salutiamo. Ecco, da lunedì Fulvione riapre con tutte le misure di sicurezza, con tutte le protezioni, ovviamente riapre da asporto. Salutiamo Fulvio. Ciao, ciao ragazzi. Eccolo lì con la sua bellissima mascherina che adesso ci racconta cosa si è inventato per riaprire lunedì. E niente, da lunedì facciamo solo asporto, non facciamo entrare nessuno, li teniamo tutti all'esterno del locale e direi pure, vi faccio vedere più o meno l'idea che ci siamo inventati. Apriremo la porta qui, si infilerà dentro un altro serramento così non modifico neanche tutta questa bellissima porta. Ci sarà una finestrella dove io passerò fuori i malini dalla mia vetrina, il cliente mi aspetterà su marciapiede. Lì non si forneranno assemblamenti perché spero, spero che si forteranno, però con le dei quali temi bisogno di sicurezza, ognuno, tanto ormai le fine sono abituate a farle come quando vanno al supermercato, dove sarà tre e quattro persone, starà lì in fila sul marciapiede, io mi faranno l'ordine e io glielo consiglierò da valutare. Ecco, quindi stavamo dicendo prima, sarà un po' come andare a farmacia notturna, cioè qui ci sarà un'ulteriore protezione, ci sarà una finestrella, Fulvio vi vedrà in faccia con la mascherina a distanza e potrete prendere i vostri straordinari panini che si mangiano solo qui, il palmito prima di tutti e quindi sarà un po' come rinascere insomma. Bravissimo, poi invece faremo anche le consiglie a domicilio, con il servizio vi piace, in questi giorni uscirà tutto sul peso come fare a ordinare e verranno consegnati i panini tutta Varese e chi voglia di mangiare basta che se vengono o fa l'ordine se mi piace e li verrà un altro. Ecco, gli orari ce li dicevi prima, anche pranzo, giusto? Sì, facciamo pranzo tutti i giorni, meno che il sabato e la domenica pranzo, però adesso per incominciare lo sappiamo richiesta, lavoreremo anche il sabato e la domenica mezzogiorno, però siamo aperti tutti i mezzogiorni dalle 11 e mezzo alle 2 e mezzo, e alla sera facciamo più o meno tutte le sede dalle 18 e 30 alle 21, le 23 e adesso valuteremo un po' in base all'andamento del lavoro. Perfetto, e vedo ultimissima cosa che Fulvio però non è stato con le mani in mano nemmeno pensando al dopo, cioè all'inizio giugno quando potrà riaprire vedete delle finestrelle e del plexiglass perché qui ci saranno già, è già tutto pronto anche per la riapertura di giugno, vero Fulvio? Sì, sì, ci siamo già portati avanti, abbiamo già fatto tutte le proiezioni del caso, alte 80 centimetri, mi sono affidato a dei professionisti qua amici di Varese e abbiamo fatto le nostre protezioni e così si accordiamo la nostra e la vostra salute. Grazie Fulvio, ci vediamo qui lunedì. Grazie a voi e spero di vedermi presto. Ciao Fulvio.